Allora la sinergia nasce dalla bellezza delle persone. Prima cosa Marco è conosciuto e abbiamo condiviso sicuramente molti aspetti che riguardano l'impresa ma direi anche la voglia di poter continuare, quindi di continuare a fare impresa in maniera rivoluzionaria come dice lui. Quindi è sicuramente un aspetto importante dove un'azienda del territorio nota come la Mark Bass, un'azienda stimata in tutto il mondo, ha la voglia di legarsi con un'altra azienda come la nostra Walter Tosto che esporta in tutto il mondo e quindi un legame che guarda queste due aziende con la voglia di prendere per mano anche altre e avere progetti di sviluppo e dare la voglia ancora di fantasticare che possibili è possibile costruire un qualcosa di nuovo e quello che vedremo come prodotto della MB58 è sicuramente in questa direzione. In passato Marco mi chiese anche la possibilità di immaginare qualche cosa che potesse essere prodotta nelle nostre ufficine, sicuramente quello che facciamo noi è pesante, di ferro e quindi non era la cosa giusta. Sicuramente la voglia di collaborare c'è e non escludo che possa essere fatto. Ad oggi vedremo qualcosa di totalmente diverso dove anche quello che noi facciamo è partecipe nel progetto ma indirettamente perché siamo costruttori di componenti per il settore dell'energia, della plastica e dei prodotti chimici in genere. L'occasione di presentare una nuova linea di prodotti che sono nati durante questo periodo che è appena passato, che non è stato dei più facili sicuramente per tutti. Durante questo periodo abbiamo iniziato a pensare in modo diverso ad una linea di prodotti rivoluzionaria. Presenteremo questa linea di prodotti il 30 giugno, prima di allora nessuno sa niente, infatti abbiamo iniziato già sui nostri social, sulle nostre informative a parlare di questo evento, ma parliamo solo dell'evento. L'evento è importante in quanto appunto sarà l'inizio e l'introduzione nel mercato di questa nuova linea rivoluzionaria di prodotti MarkBase. Grazie a questa occasione, ad aver conosciuto soprattutto Luca Tosto, abbiamo parlato e siccome condividiamo molti aspetti del fare impresa e soprattutto la passione per il territorio, abbiamo iniziato a lavorare insieme per far diventare questo evento, non solo un evento MarkBase, un evento che nello stesso tempo fosse importante per tutta la città di Pescara, per tutto l'Abruzzo e tutto il territorio. E devo dire che credo ci stiamo riuscendo.